Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Giocare per le strade della città, fidarti del prossimo, credere alla curiosità. Quando sei un bambino, tutto è ovattato dal velo dell'innocenza e il male si rende molto più difficile da percepire. È il 1994 e ci troviamo nella città di Peterborough, nel Regno Unito. Qui vive Ricky Neve, un bambino di sei anni, nato il 4 marzo del 1988. Suo padre Trevor, quando si verifica questo caso, si è già separato da tempo dalla moglie Ruth, mamma di Ricky. Dunque, il bambino vive con lei e con le sue tre sorelle. Rebecca, che è la primogenita, Rochelle, che ha tre anni, e Sheridan, che ha meno di un anno. Le ultime due figlie Ruth le ha avute con un altro uomo di nome Dean. Ricky viene descritto da tutte e tre le sue sorelle come un fratello dolce e premuroso. Rebecca spiega che, sebbene sia più grande di Ricky, si è sempre sentita come se fosse più piccola di lui, proprio perché Ricky si comportava da fratello maggiore. Infatti, già all'età di sei anni, si prendeva cura di tutte le sorelle. Ricky, però, è anche un ragazzino vivace sfacciato. Di tanto in tanto fa qualche dispetto, come quasi tutti i bambini della sua età. Vive a Red Mile Walk, nella zona di Welland Estate, che, come detto, si trova nella città di Peterborough. Il piccolo Ricky è molto conosciuto nel suo quartiere. I vicini lo vedono spesso mentre agguanta un bastone e si incammina per le vie, alla ricerca di avventure e di divertimento. Ricky, in effetti, è anche un bambino spiritoso, ha una bella risata e riesce a far sorridere anche il prossimo. È lunedì 28 novembre 1994, quindi per il piccolo Ricky, si inaugura una nuova settimana di scuola. La giornata inizia come tutte le altre per lui. Dopo il risveglio fa qualche capriccio, dice a sua madre Ruth che non vuole andare a scuola, ma, siccome il ragazzino sta bene in salute, sua madre lo esorta a prepararsi. Ricky, allora, indossa l'uniforme scolastica, fa una colazione leggera e, verso le 9.30, esce di casa e comincia a percorrere la strada che lo conduce a scuola. Raggiunge l'istituto sempre da solo, nonostante abbia solo sei anni. Del resto, questa è un'abitudine comune a molti altri bambini della zona. Intanto Ruth, la madre di Ricky, continua la sua giornata dando per scontato che il figlio stia seguendo le lezioni e che lo rivedrà più tardi al suo ritorno. Ma il tempo passa. Sono circa le 16 e, stranamente, Ricky non è ancora rincasato. Eppure, di solito, a quell'ora del pomeriggio, è già rientrato. Tuttavia, siccome Ricky va spesso in giro da solo, potrebbe essersi messo a vagare per il quartiere, come a volte fa. Ruth, quindi, cerca di non farsi assalire dal panico, ma quando le lancette dell'orologio, appeso in salotto, indicano che sono ormai le 17.30, intuisce che qualcosa non va. Fuori si è fatto buio e Ricky è terrorizzato dall'oscurità. Dunque, è impossibile che non sia rientrato per propria scelta. Verso le 18, Ruth prende il telefono e denuncia la scomparsa di suo figlio alla polizia. Alcuni agenti la raggiungono subito a casa e raccolgono una dichiarazione per poi dare avvio alle ricerche immediate. Ricky ha soltanto sei anni. La sua sparizione è un'emergenza impellente. La polizia ispeziona le strade, dialoga con gli abitanti della zona. Infine, si inoltra nelle aree boschive dei dintorni, ma purtroppo di Ricky non c'è traccia. Le ricerche proseguono la mattina successiva. Alla squadra si aggiungono altri agenti e la notizia della scomparsa di questo ragazzino si diffonde rapidamente. Il caso viene presentato su tutti i giornali. Intanto la polizia, nel ricostruire gli ultimi movimenti di Ricky, ha scoperto che il bambino non è mai arrivato a scuola. La mattina del 28 novembre. Contrariamente alle prime ipotesi, Ricky non è scomparso mentre tornava a casa dopo le lezioni, il che significa che gli è successo qualcosa nelle ore ancora precedenti. Purtroppo, già il 29 novembre, la famiglia di Ricky è costretta ad affrontare una drammatica notizia. Perlustrando il bosco, non lontano dalla casa Red Mile Walk, la polizia si è imbattuta nel corpo senza vita del piccolo. In realtà, la sera prima, dunque il giorno stesso della scomparsa, un agente aveva già battuto quella zona, ma probabilmente non aveva individuato il cadavere perché è nascosto dal buio. Si ritiene infatti che i resti di Ricky si trovassero già lì. Il corpo di Ricky è disteso sulla schiena, privato dei vestiti, e sembra sia stato messo in posa. Infatti, la collocazione degli arti ricorda la forma di una stella, con le gambe e le braccia divaricate. La polizia è perplessa e si chiede chi possa essere l'autore di quello che risulta indubbiamente un omicidio. L'autopsia lo conferma e stabilisce che la causa del decesso è lo strangolamento effettuato con la giacca che, proprio la giovane vittima, indossava nel momento del delitto. Infatti, i segni della cerniera della giacca sono ancora impressi sulla pelle del collo di Ricky. Questa giacca, insieme agli altri vestiti che il bambino avrebbe dovuto avere addosso, non vengono però rinvenuti sulla scena del crimine, cioè nel bosco. Fatta eccezione per un bottone che, secondo gli investigatori, proviene dalla camicia bianca di Ricky, parte della sua divisa scolastica. Questo indica che l'assassino lo ha denudato nel bosco e che ha portato via con sé gli abiti della vittima, forse per conservarli come un trofeo. Non ci sono prove che Ricky sia stato aggredito intimamente dal suo omicida, nonostante lui lo abbia spogliato, ma ciò non esclude che il crimine possa avere un movente intimo. A seguito del ritrovamento del corpo, viene avviata un'indagine per omicidio e la polizia è determinata a trovare il colpevole. I detective e i membri della famiglia di Ricky lanciano un appello al pubblico, supplicando chiunque avesse qualche informazione di farsi avanti. Parallelamente, la polizia conduce un'indagine casa per casa, al fine di raccogliere le dichiarazioni dei vicini. Gli agenti, inoltre, perquisiscono tutti i bidoni della spazzatura nella zona di Welland Estate, nel tentativo di rintracciare alcune prove del crimine, magari cestinate dall'assassino. E in effetti, questa teoria si rivela corretta. Infatti, il giorno successivo alla scoperta del corpo, quindi il 30 novembre 1994, in un contenitore dei rifiuti vengono ritrovati i vestiti che Ricky indossava quando è stato ucciso. Il bidone della spazzatura in questione è situato a 150 metri dal luogo del ritrovamento dei resti del ragazzino. Nello specifico emergono la giacca blu di Ricky, la sua camicia bianca, i pantaloni grigi, le scarpe nere, i calzini e anche la sua biancheria intima. Le immagini che raffigurano i vestiti di Ricky vengono rilasciate al pubblico. La polizia, infatti, spera che qualcuno, nel vederle, possa ricordare di aver avvistato il piccolo il giorno del delitto. In effetti, molti residenti della zona in cui abitava Ricky si fanno avanti. C'è chi segnala di averlo notato quella mattina, chi nel pomeriggio, e a quanto pare il bambino aveva anche parlato con un paio di persone. La polizia, di conseguenza, deduce che Ricky è stato ucciso nel tardo pomeriggio del 28 novembre, dopo questi avvistamenti. Quanto riferiscono i testimoni può soltanto essere preso in parola, perché all'epoca, nel 1994, non sono diffuse le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso. In ogni caso, la polizia è sotto pressione, deve catturare l'autore del reato il più velocemente possibile, dato che un ragazzino innocente è stato brutalmente ucciso. Bisogna trovare l'individuo che è stato capace di fare una cosa del genere, perché potrebbe prendere di mira qualche altro bimbo. All'inizio, la polizia ha ipotizzato che il responsabile della morte di Ricky potrebbe essere un altro bambino, o un ragazzino poco più grande. Tuttavia, questa teoria è stata rapidamente esclusa, perché i principali sospetti si indirizzano verso un'altra persona, adulta e molto vicina a Ricky, cioè sua madre rossa. Negli investigatori si insinua questa convinzione a causa di alcuni precedenti della donna che infatti aveva abbatto dei propri figli. Questo risvolto ci porta inevitabilmente a considerare la vita familiare di Ricky. La famiglia Neve si è fatta conoscere dai servizi sociali e dalla polizia già prima dell'omicidio di Ricky, siccome erano emerse prove di negligenza da parte di Ruth nei confronti dei bambini. L'ex compagno della donna, Dean, padre delle sue due figlie più piccole, Rochelle e Sheradin, aveva deciso di lasciarla proprio per la maniera in cui Ruth trattava i ragazzini. Dean afferma che Ruth perdeva sempre la pazienza con i suoi figli, che urlava contro di loro e li aggrediva fisicamente, li picchiava e li prendeva calci. Inoltre, ben poco cibo destinato ai bambini era presente in casa. Infatti, loro raramente consumavano dei pasti adeguati. A questo proposito, le sorelle di Ricky raccontano che il fratello si recava in autonomia in un negozio locale e rubava qualcosa da mangiare anche per loro. Era molto piccolo, ma aveva già capito che se non avesse provveduto lui al nutrimento delle sorelle, loro quel giorno sarebbero rimaste digiune. Ricky si assicurava anche che tutte le sue sorelle facessero il bagno, proprio come riferisce Rebecca, la maggiore. Come detto, lei ha sempre avuto la sensazione che fosse Ricky quello più grande e forte tra i due, perché proteggeva lei e le più piccole. Nonostante la sua giovane età, Ricky voleva sincerarsi che le sorelle fossero pulite e sazie. Tornando a Ruth, oltre a lavare e a sfamare a malapena i suoi figli, molto spesso era solita rinchiuderli nelle loro camere da letto. Legava con uno spago le maniglie esterne delle porte, delle stanze e dei figli e lo estendeva fino alla ringhiera delle scale per fissarlo lì intorno, in modo che i bambini risultasse impossibile uscire dalle loro camere. In un'occasione, durante una discussione con Ricky, il bimbo aveva detto una parolaccia, allora Ruth, per punizione, gli aveva versato in bocca del detersivo per piatti. Qualche anno prima, sempre Ricky era stato visto con la parola idiota scarabocchiata sulla fronte e a scrivergliela era stata sua madre. Nel dicembre del 1991 la polizia era sopraggiunta presso l'abitazione di Ruth perché un vicino aveva segnalato che la donna aveva chiuso Ricky fuori di casa e il piccolo aveva solo tre anni. Secondo sua madre era stato cattivo, per questo lo aveva costretto a rimanere all'esterno, sulla soglia di casa con addosso soltanto al pigiama. Alcuni vicini hanno affermato di aver intravisto Ruth che lanciava Ricky dall'altra parte della stanza e che lo prendeva a calci in testa. Altre volte, era arrivata quasi a strangolarlo. Qualcuno l'aveva chiaramente vista mentre afferrava il figlio per la gola e gli gridava ti ammazzo. Oltre a questi obiettivi bisogna considerare anche che Ruth aveva un grosso problema con le dipendenze. Infatti era solita mandare Ricky a casa del suo fornitore per procurarsi le sostanze. A quanto pare gli ordinava addirittura di andargliele a comprare di sé a tardi fino alle 23.30. Alla luce di questi avvenimenti la polizia quindi ha rapidamente teorizzato che Ruth potrebbe essere l'assassina di suo figlio. Del resto aveva già minacciato di ucciderlo lo aveva persino afferrato per il collo forse questa volta è andata fino in fondo e lo ha strangolato a morte. Dunque un paio di giorni dopo l'avvio dell'indagine sull'omicidio alcuni agenti vengono inviati a casa di Ruth per eseguire una perquisizione. Si ritrovano così in un ambiente molto disordinato e sporco. La polizia scopre anche che Ruth nutre un forte interesse per il true crime. In generale a dirla tutta questo non è un dettaglio sconcertante. Io stessa ho un canale interamente dedicato a questo argomento che di certo interessa anche a voi se siete qui ad approfondire i casi che tratto. D'altronde noi esseri umani siamo incuriositi dai comportamenti che è difficile decifrare. Mettiamo alla prova i nostri timori e a volte anche la nostra sensibilità. Ruth era davvero affascinata dal true crime. Infatti a casa sua la polizia trova molti libri che affrontano il tema dei crimini e degli omicidi. Individuano persino un manoscritto che Ruth aveva buttato giù incentrato su un serial. Ruth descrive il suo libro usando queste parole. Un resoconto in prima persona dell'omicidio perfetto di un tizio che strangola e mutila una ragazza. L'ossessione di Ruth per gli omicidi suggerisce alla polizia che lei avesse ucciso suo figlio Ricky. La donna in particolare custodiva anche dei libri sulla magia nera e sui sacrifici animali. In uno di questi volumi si legge che il sacrificio perfetto consiste nell'immolare un figlio maschio. I detective trovano anche una rivista chiamata The Unexplained che sulla copertina riporta l'immagine dell'uomo vitruviano. I detective si interessano particolarmente a questo disegno perché ricorda loro la posizione in cui hanno ritrovato il corpo senza vita di Ricky. Pensano quindi che Ruth avesse ucciso il suo unico figlio maschio per eseguire una sorta di sacrificio rituale inerente alla magia nera. A questo punto a sospettare della donna non è solo la polizia ma anche tutti i vicini persino i suoi amici dubitano della sua innocenza. Ruth diventa improvvisamente la donna più odiata di Peterborough. Tutti sono convinti che abbia brutalmente ucciso suo figlio. Così circa tre settimane dopo la morte di Ricky il 19 gennaio 1995 Ruth viene arrestata con l'accusa di omicidio e portata alla stazione di polizia dove viene interrogata. Ruth nell'arco di due giorni viene interrogata per un totale di 14 ore e per tutto il tempo continua a sostenere la propria innocenza. Dice fermamente che non ha ucciso Ricky però dopo un po' di tempo ammette di aver abusato fisicamente di lui. Infatti gli agenti l'hanno accusata di avergli versato del detersivo in bocca e lei ha confermato ma continua a negare con tutte le sue forze di aver assassinato il figlio. Probabilmente gli investigatori hanno interrogato Ruth così a lungo nella speranza che lei non riuscisse a reggere tutta quella pressione quelle domande ripetute di continuo finendo per crollare e confessare l'omicidio. Ruth però non confessa mai anche se per la polizia questo non ha molta importanza infatti circa sei mesi dopo il delitto di Ricky sua madre viene formalmente accusata dell'omicidio. Siccome Ruth si dichiara non colpevole deve affrontare il processo fissato nel 1996. Tuttavia ancora prima l'indagata subisce un procedimento giudiziario in merito all'abbandono di minori. In questo caso Ruth si dichiara colpevole e viene condannata a sette anni di prigione in merito a queste specifiche accuse. Poi nell'ottobre del 1996 il processo a carico di Ruth per l'omicidio di Ricky ha inizio. L'accusa sostiene che Ruth aveva ucciso Ricky poco dopo le 17 del 28 novembre 1994. Credono che il piccolo non fosse andato a scuola dato che quella mattina aveva chiesto a sua madre di poter saltare le lezioni. Probabilmente aveva girovagato per la zona da solo fino alle 17 dopodiché era rientrato. Quando era rincasato però era scoppiata una lite violenta tra lui e sua madre tanto che era culminata con un omicidio. Infatti lei lo aveva strangolato a morte utilizzando la gioca che Ricky stesso indossava. Dopo il bestiale delitto sempre secondo l'accusa Ruth aveva nascosto il corpo senza vita del figlio in un passeggino. Era uscita di casa e aveva spinto la carrozzina con dentro il cadavere di suo figlio fino a raggiungere il bosco dove aveva spogliato Ricky completamente per poi posizionarlo a terra. Infine aveva lasciato il bosco aveva gettato i vestiti della sua povera vittima in un cassonetto ed era tornata a casa verso le 18 A quel punto aveva afferrato il telefono e chiamato il 999 per denunciare la scomparsa di suo figlio. La squadra di difesa però interviene presentando delle prove che sembrano confutare questa versione degli eventi indicando che l'accusa e la polizia si sbagliano di grosso perché Ruth non è l'assassina di Ricky. In primo luogo i difensori sostengono che la finestra temporale in cui l'accusa racchiude le azioni inerenti al crimine è troppo breve. Secondo i rappresentanti dell'accusa Ruth avrebbe ucciso Ricky poco dopo il suo rientro intorno alle 17 e un quarto. Sono giunti a questo orario perché nel pomeriggio del 28 novembre Ruth aveva invitato un'amica a casa propria che era andata via alle 17. Siccome Ruth aveva denunciato la scomparsa del figlio alle 18 questo significherebbe che aveva compiuto la sequenza delle azioni appena descritte in un intervallo di soli 45 minuti. In questo periodo di tempo così concentrato avrebbe quindi ucciso Ricky sistemato il suo corpicino nel passeggino raggiunto il bosco spogliato il figlio per metterlo in posa e gettato i suoi vestiti nella spazzatura senza mai farsi vedere da nessuno. Infatti tra l'altro non è emersa nessuna testimonianza di qualcuno che avesse visto uscire Ruth da casa con un passeggino. nessuno l'ha avvistata mentre si incamminava verso il bosco quella sera. In sostanza per la difesa questa versione degli eventi è irragionevole. L'innocenza della donna è provata dal breve lasso temporale a disposizione dall'assenza di testimoni e soprattutto da un altro dettaglio riferito alle scarpe che Ricky indossava il giorno del delitto. Come vedete nella foto che vi mostro le scarpe di Ricky sono macchiate di fango fango che è stato confrontato con quello individuato nel bosco nel punto in cui è stato ritrovato il corpicino del piccolo dando come risultato una corrispondenza esatta. La presenza del fango sulle scarpe del bimbo indica che lui stesso aveva camminato nel bosco e se le era macchiate cosa che non sarebbe accaduta se sua madre avesse trasportato il suo cadavere in passeggino come l'accusa ritiene. Questo vuol dire che Ricky ancora vivo era stato condotto in quel luogo dal suo assassino e a quanto pare i detective coinvolti nel caso lo sapevano. Infatti avevano ottenuto queste informazioni sull'esame del fango da un esperto già nelle settimane successive alla morte di Ricky. Dunque sembra abbiano deciso di ignorare questa prova perché non combaciava con la loro visione ristretta degli eventi perché non si adattava alla teoria secondo cui Ruth aveva ucciso il figlio. Nel complesso non esiste alcuna prova concreta che colleghi Ruth all'omicidio di conseguenza quando il processo giunge al termine la giuria la dichiara non colpevole e la assolve. Lei è sicuramente una madre inadeguata ma non un'assassina. Tuttavia Ruth finisce ugualmente in prigione per la già menzionata accusa di crudeltà infantile di cui si era dichiarata colpevole. La donna viene rilasciata nel 2000 intanto nel 1997 l'ispettorato dei servizi sociali redige un rapporto in cui si rilevano delle gravi mancanze nel personale competente sul caso della donna perché non era riuscito a proteggere Ricky e le sue sorelle da quella vita familiare violenta. È spaventoso che i bambini non fossero stati allontanati da un tale ambiente domestico prima della morte di Ricky. Infatti questo rapporto solleva profonde preoccupazioni riguardo alla capacità del consiglio della contea di Cambridge di proteggere i bambini vulnerabili. Quanto alle investigazioni sull'omicidio di Ricky dopo l'assoluzione di Ruth il capo detective che si stava occupando del caso annuncia al pubblico che non indagherà ulteriormente a meno che non emergano delle prove significative. La polizia è ancora convinta che la giuria abbia commesso uno sbaglio tutti nonostante l'evidenza del processo continuano a credere che Ruth sia l'assassina. Così una volta emesso il verdetto di non colpevolezza il caso sull'uccisione di Ricky si raffredda. Passano diversi anni ma non si registrano delle novità su una possibile identità dell'omicida che gli ha strappato la vita a quell'orribile giorno del novembre 1994. Poi nel 2013 quindi a poco meno di due decenni dalla morte di Ricky sua madre Ruth intraprende una campagna affinché il caso del figlio venga riaperto nella speranza che la polizia riesca finalmente a catturare il vero assassino. A distanza di ulteriori due anni nel 2015 viene avviata una revisione del caso dell'omicidio risolto di Ricky Neve. Il compito viene assegnato a una nuova squadra di investigatori infatti due detective che ne sono a capo non hanno alcun coinvolgimento nell'indagine originale. Dunque partono riesaminando tutti gli elementi dal principio i fascicoli le prove raccolte i resoconti dei testimoni e gli avvistamenti segnalati. A suscitare l'interesse della squadra è quanto aveva riferito una donna di nome Sylvia Clay che all'epoca dell'omicidio nel 1994 viveva vicino alla casa di Ricky. Sylvia aveva affermato che intorno a mezzogiorno del 28 novembre 1994 guardando fuori dalla sua finestra aveva visto Ricky che camminava lungo la strada di fronte ma non era solo. Con lui secondo la testimone c'era un ragazzo più grande e le era sembrato che i due si stessero dirigendo verso il bosco. Per di più Sylvia non era stata l'unica ad avvistare Ricky e questo ragazzo insieme infatti anche un altro testimone aveva fornito un resoconto simile. Fortunatamente Sylvia conosce l'identità del giovane in questione dato che anche lui viveva in quella zona. Si chiama James Watson e all'epoca aveva 13 anni. Sylvia conosceva bene anche suo padre un certo Jim e gli aveva riferito di aver visto il figlio James in compagnia di Ricky nel giorno in cui il bambino era stato ucciso. Allora Jim come non molti genitori avrebbero fatto a dirla tutta era andato direttamente alla polizia per riportare l'accaduto dicendo addirittura agli agenti che suo figlio era un ragazzino complicato e poteva essere coinvolto. La polizia quindi aveva parlato con il tredicenne James Watson. Tuttavia dato che era stato visto con Ricky intorno a mezzogiorno e che nelle ore successive il bimbo era stato avvistato da solo James non viene considerato come un soggetto di interesse nelle indagini. Più che altro lo classificano come un testimone. Il resoconto dei suoi movimenti che James ha fornito alla polizia a distanza di una settimana dal ritrovamento di Ricky è il seguente. James quella mattina era andato a scuola ma era già uscito verso le 10.30 perché non stava molto bene. Dopodiché era andato a casa di sua madre ed era rimasto a chiacchierare con lei per circa 45 minuti prima di dirigersi dal padre che abitava nella zona in cui viveva anche Ricky. Non troppo lontano da lì in strada c'era una scavatrice perché nel quartiere stavano eseguendo dei lavori. È a questo punto che Ricky si era avvicinato a James per commentare la grandezza di quella specie di trattore. James allora gli aveva detto che quello non era un trattore bensì una scavatrice. Poco dopo lui e Ricky si erano separati. James aveva ripreso il percorso che lo avrebbe condotto a casa del padre e non aveva più visto il bambino. Intorno alle 16 di quello stesso giorno James era salito su un taxi che l'avrebbe riportato a casa sua perché il 13enne non viveva né con la madre né con il padre ma in una casa famiglia. Come accennato James non era stato considerato come un sospettato perché i detective ritenevano che l'omicidio di Ricky fosse avvenuto nel tardo pomeriggio del 28 novembre. James invece era stato visto con Ricky verso mezzogiorno e aveva preso un taxi per le 16 da solo. Tuttavia la squadra della sezione omicidi irrisolti che nel 2015 riapre il caso e studia ogni suo elemento dubita che l'ora stimata della morte fosse corretta. Forse Ricky era stato ucciso molto prima durante quella giornata. Prima di raccontarvi l'evoluzione delle nuove indagini bisogna però parlare meglio di James Watson. James nasce il primo aprile 1981 e vive un'infanzia piuttosto instabile. Infatti viene affidato e trasferito a più di un istituto residenziale e assistenziale per bambini pur mantenendo i contatti con entrambi i genitori. James viene descritto come un bambino molto ma molto difficile tanto che causava sempre problemi. Tutti quelli che lo conoscevano pensavano che fosse un ragazzino davvero strano e uno dei suoi insegnanti di scuola lo aveva definito addirittura come un soggetto disturbato. James si arrabbiava facilmente e quando perdeva la pazienza diventava violento. Alcuni degli operatori sanitari della casa famiglia in cui viveva spiegano che James Watson si procurava spesso piacere di fronte ad altra gente all'aperto e non gli importava di mettere a disagio le persone attorno a lui. Negli anni successivi alla morte di Ricky Neve James Watson aveva accumulato vari precedenti penali. Era stato arrestato per una serie di reati come furto con scasso furto automobilistico e aggressione e questa sua condotta criminale l'aveva attuata fino all'età adulta. Durante la revisione del caso i detective scoprono che due giorni dopo la morte di Ricky il 30 novembre 1994 James Watson era andato a scuola con un giornale su cui era stampata una foto del viso di Ricky. Mostrando l'articolo ai compagni James aveva detto che conosceva Ricky perché era amico di uno dei suoi fratelli. Aveva anche fotocopiato quella pagina di giornale ma perché? Voleva addirittura conservarne delle copie? Forse perché era coinvolto nell'omicidio di Ricky e quell'articolo per lui rappresentava una sorta di trofeo? Il comportamento bizzarro esibito da James non si limita a questo infatti scavando un po' più a fondo nella ricostruzione dei suoi movimenti durante il giorno del delitto di Ricky la polizia scopre chi aveva mentito. Se ricordate James aveva detto che quella mattina dopo aver lasciato la scuola intorno alle 10.30 era andato a trovare sua madre a casa sua ed era rimasto con lei a chiacchierare per circa 45 minuti. Tuttavia quando viene interrogata la mamma di Ricky lei smentisce il fatto quella mattina non era neanche a casa quel giorno non aveva visto suo figlio James quindi la versione dei fatti fornita a suo tempo dal ragazzino non sta più in piedi. Ormai nel 2015 James ha 35 anni ma nonostante i sospetti la polizia non ha alcuna prova concreta per collegarlo al crimine. Così nel tentativo di escluderlo o meno dall'indagine gli agenti intendono analizzare le prove relative al caso conservate in archivio per tutti questi anni inclusi i vestiti che indossava Ricchi quel giorno. In realtà purtroppo tutti gli indumenti la giacca la camicia i pantaloni e le scarpe del bambino sono andati persi nei magazzini nel corso degli anni. Il team investigativo che ha riaperto il caso non riesce proprio a rintracciarli ma per fortuna può ancora visionare le prove raccolte attraverso gli abiti della vittima nel 1994. Sono state conservate delle strisce di nastro adesivo usate per prelevare eventuali fibre peli o qualsiasi altro elemento significativo che adesso vengono sottoposti al test del DNA. I risultati conducono a un primo risvolto importante perché rilevano un profilo genetico corrispondente a quello di James Watson. Questo vuol dire che il suo DNA è presente sui vestiti che Ricchi indossava il giorno del delitto e ciò rende James Watson uno dei principali sospettati. Così nell'aprile del 2016 22 anni dopo il crimine la polizia si reca a casa della madre del 35enne e arresta James Watson sospettato dell'omicidio di Ricchi e Neve. La sua relazione al momento dell'arresto in realtà sbalordisce la polizia principalmente perché una reazione James non la manifesta. Non si dimostra scioccato e nemmeno confuso. Non sostiene la sua innocenza e non fa nessuna domanda. James appare calmo come se sapesse che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato. La polizia lo porta alla stazione per interrogarlo gli rivolge alcune domande sull'omicidio di Ricchi e gli chiede se è coinvolto nel crimine. James risponde no comment per la maggior parte del tempo ma inizia a parlare un po' di più quando la polizia lo esorta a esporre la propria versione dei fatti di quel giorno soltanto che adesso James altera completamente la sua storia originale quella raccontata nel lontano 1994. James riferisce di aver incontrato Ricchi in un vicolo ribadisce che il bambino aveva fatto un commento sulla grandezza sbalorditiva di quella specie di trattore presente in strada durante dei lavori di costruzione in corso. James gli aveva risposto che quello non era un trattore bensì una scavatrice. È a questo punto che James aggiunge nuovi dettagli alla sua storia affermando affermando che di fronte a Ricchi si innalzava la recinzione del cantiere infatti il bambino aveva scorto la scavatrice osservandola attraverso un piccolo buco nella sua parete allora James per consentirgli di osservare meglio quel grosso attrezzo e lo svolgimento dei lavori lo aveva preso in braccio e sollevato questo è un resoconto che salta fuori improvvisamente che il sospettato non aveva mai menzionato e ora dopo ben 22 anni risulta poco probabile che James ricordi questi dettagli sembra piuttosto che stia tentando di giustificare in via preventiva eventuali prove che la polizia potrebbe avere contro di lui proprio come quella del suo DNA presente sui vestiti di Ricchi di certo James non è stupido probabilmente ha intuito che cosa ha condotto al suo arresto la polizia la doveva aver ottenuto dalle prove concrete che lo collegano al crimine James quindi prefigurandosi questa situazione ha elaborato una motivazione plausibile per cui il suo DNA è stato rilevato sugli abiti di Ricchi o quantomeno questo è ciò che pensa la polizia convinta che James abbia inventato questa storia come copertura il nuovo team investigativo non crede nemmeno per un secondo a questa versione rinnovata degli eventi ma deve trovare un modo per dimostrare che la storia della recensione è una bugia e quindi come possono provare che più di 20 anni prima James Watson non aveva mai preso in braccio Ricchi in realtà non c'è un modo per provarlo quindi la polizia è costretta a rilasciare James dopo l'interrogatorio ciò nonostante i detective tentano ancora di ricostruire il caso contro di lui poi un paio di settimane dopo il suo rilascio James Watson fugge emerge che James che come detto era stato precedentemente condannato per altri reati ha minacciato un suo vecchio compagno di cella l'ha obbligato a portarlo al porto dei traghetti della città di Dover e a salire a bordo dell'imbarcazione con lui per poi raggiungere il portogallo James però durante la fuga non ha cercato di mantenere un profilo basso ha pensato che visto che la polizia l'ha lasciato andare forse non c'era davvero un motivo di nascondersi quindi ha iniziato a scattare un sacco di foto di se stesso in portogallo mentre è in spiaggia a prendere il sole e le ha condivise sui social media incluso un selfie in cui appare con un agente di polizia portoghese queste foto fanno notizia nel Regno Unito anche perché James ha ammesso apertamente di essere sospettato dell'omicidio di Ricky Neve ancora una volta non ha fatto alcun tentativo per nasconderlo come se fosse qualcosa per cui vantarsi James è davvero arrogante e si comporta così pensando di prendere in giro la polizia ha capito che i detective non hanno prove sufficienti per arrestarlo e li provoca il che a mio avviso evidenzia maggiormente quanto è contorto quest'uomo James è sospettato di aver commesso un omicidio orribile eppure pare si stia godendo l'attenzione mediatica che sta ricevendo per sua sfortuna però la polizia riesce a estradarla nel Regno Unito dal Portogallo perché James ha violato i termini della sua licenza collegati ad altri crimini da lui commessi in precedenza tuttavia anche se James viene riportato indietro la polizia non può ancora accusarlo dell'omicidio di Ricky non le viene concesso il permesso dalla procura della corona sempre perché non sono state raccolte prove sufficienti a causa della storia riproposta da James quella di aver sollevato Ricky per permettergli di guardare oltre la recensione la polizia teme che qualora il caso finisse in tribunale la difesa farebbe leva su questa circostanza sosterrebbe quindi che il DNA di James si trova sui vestiti di Ricky perché lui lo aveva preso in braccia per consentirgli di vedere meglio la scavatrice confutare questa tesi risulta davvero difficile se non impossibile o almeno così sembra finché un giorno uno degli investigatori si imbatte inaspettatamente nella prova di cui la polizia ha un disperato bisogno il detective sta studiando tutta la copertura giornalistica inerente al caso dal novembre del 1994 anno in cui Ricky era stato ucciso ovviamente la notizia del suo omicidio si era diffusa a macchia d'olio suscitando molta attenzione da parte dei media ebbene il detective riesce a trovare un videoclipe che contiene un segmento girato proprio nel cantiere in cui si innalzava la scavatrice lo stesso cantiere in cui James afferma di aver incontrato Ricky mentre stava guardando l'attrezzo quando la telecamera fa una rapida panoramica dell'area del cantiere il detective nota qualcosa nel vicolo in cui James ha detto di aver incontrato Ricky ovvero che non c'è nessuna recinzione ecco la prova che la polizia ha tanto cercato James ha mentito la storia che ha raccontato per spiegare la presenza del suo DNA sugli abiti del bimbo ora può essere smentita nonostante questo risvolto purtroppo per la procura della corona ancora non sono emerse prove sufficientemente solide contro James Watson allora gli investigatori si rivolgono alla madre di Ricky Ruth Neve e chiedono la sua collaborazione contando sulla disposizione legale che vige in Inghilterra chiamata schema del diritto di revisione della vittima nello specifico la vittima di un crimine violento o un membro della famiglia di una vittima di omicidio vanta il diritto di chiedere al servizio di procura della corona ovvero il CPS Crown Prosecution Service di riconsiderare la sua decisione che impedisce alla polizia di accusare qualcuno Ruth è disposta ad avvalersi di questo schema nel tentativo di far incriminare James Watson e per fortuna la sua richiesta viene accolta dal CPS dunque nel febbraio del 2020 la polizia ottiene il via libera per arrestare e accusare James Watson dell'omicidio di Ricky Neve dopo più di due decenni e mezzo dal compimento del crimine James si dichiara non colpevole e il suo processo inizia nel febbraio del 2022 in questa occasione l'accusa presenta la propria versione degli eventi sulla base delle prove raccolte dalla polizia la squadra di revisione dei casi risolti ha sempre sospettato che l'omicidio di Ricky a opera di James Watson fosse stato premeditato questo perché la madre dell'imputato ha detto alla polizia che circa tre giorni prima che Ricky scomparisse il figlio l'aveva chiamata dicendole che aveva ascoltato un servizio radiofonico sulla recente morte di un bambino di due anni avvenuta in zona sua madre però non sapeva di questa notizia infatti non era affatto vera la donna quindi suppone che James si fosse inventato tutto perché nei giorni precedenti alla morte di Ricky stava già pianificando di uccidere un bimbo questo ovviamente ha suggerito anche alla polizia che ci fosse l'elemento della premeditazione nel crimine dunque si ritiene che il 28 novembre 1994 James fosse uscito da scuola con l'intenzione di adescare un bimbo da rapire e uccidere durante la mattinata si è imbattuto in Ricky che vagava nella zona da solo dato che anche lui non era andato a scuola non ci sono prove che dimostrino che Ricky avesse subito un'aggressione intima ma l'accusa crede fermamente che questo crimine aveva un movente intimo infatti nel 1993 un anno prima che questo caso si verificasse James aveva dimostrato di nutrire un allarmante interesse per i ragazzini al punto che era stato denunciato per violenza intima esercitata su un bimbo di 5 anni la cosa ancora più sconcertante è che James lo aveva addirittura ammesso quando a suo tempo era stato interrogato dalla polizia per l'omicidio di Ricky aveva confermato di aver mollevato un bimbo di 5 anni oltre a ciò in passato James aveva anche aggredito la donna che era diventata la madre di suo figlio infatti all'età di 15 anni James era già padre stava ancora esplorando la sua sessualità poco definita e aveva iniziato una relazione con una ragazza che viveva nella sua stessa casa famiglia e lei era rimasta incinta è emerso che durante un paio di rapporti intimi tra i due James aveva stretto forte le mani intorno al suo collo contro il consenso della ragazza lei infatti gli aveva detto di lasciarla andare di mollare la presa ma lui lo aveva fatto soltanto quando il proprio piacere aveva raggiunto l'apice James nega di aver aggredito la sua ex ragazza ma nessuno gli crede al contrario come detto la polizia è fortemente convinta che anche l'omicidio di Ricky avesse un movente intimo ecco perché il bimbo era stato ritrovato senza vestiti e in posa dunque James aveva incontrato Ricky intorno a mezzogiorno del 28 novembre 1994 e poi secondo l'accusa in qualche modo aveva convinto il bambino ad andare con lui nel bosco vicino non si pensa che James abbia rapito Ricky anche in ragione delle tracce di fango presenti sulle scarpe del piccolo le quali indicano che lui si era arrecato sulle proprie gambe nel bosco probabilmente Ricky aveva scelto di accogliere spontaneamente l'invito di quel ragazzino più grande che aveva conquistato la sua fiducia quindi il bambino non si sentiva né spaventato né insicuro in compagnia di James durante l'autopsia sul corpo di Ricky eseguita nel 1994 il patologo era stato in grado di determinare che al momento della sua morte il bambino aveva nello stomaco dei cereali che aveva ingerito al massimo un paio di ore prima del decesso questo dettaglio rende plausibile che il bambino fosse morto un paio di ore dopo aver fatto colazione e non nel pomeriggio non a caso James aveva incontrato il piccolo intorno a mezzogiorno come hanno dichiarato due testimoni che hanno visto entrambi incamminarsi verso il bosco anche questa circostanza prova che la polizia impegnata inizialmente nell'indagine aveva scelto di ignorare dei fatti rilevanti allo scopo di consolidare il caso contro Ruth Neve ma l'organismo di Ricky il contenuto del suo stomaco evidenziava che non poteva essere stato ucciso dalla madre dopo le 17 e anche a tal proposito c'è qualcosa di profondamente sconcertante se come credono gli investigatori impegnati nella revisione del caso Ricky era stato ucciso intorno a mezzogiorno allora com'è possibile che fosse stato avvistato anche nel pomeriggio dopo l'incontro con James Watson forse quelle segnalazioni non erano state adeguatamente esaminate dalla polizia nel 1994 forse le persone che le avevano fornite si erano sbagliati avevano scambiato per Ricky un altro ragazzino che gli assomigliava o si erano semplicemente confuse sull'orario oppure peggio gli avvistamenti segnalati erano falsi le persone che gli avevano riportati avevano mentito pur di sentirsi coinvolte nelle indagini visto che si trattava di un caso molto importante come purtroppo è successo anche in altre vicende che hanno avuto un'ampia risonanza e questo torna a spiegare perché inizialmente James Watson non era stato considerato un sospettato dato che la vittima in teoria era stata avvistata viva nel pomeriggio del 28 novembre inoltre si è scoperto che la maggior parte di questi avvistamenti di Ricky relativi a quel giorno provenivano da persone che avevano riferito di averlo notato con addosso un maglione rosso che lui metteva di solito per andare a scuola ma noi sappiamo che il 28 novembre del 94 non lo indossava perché sotto la giacca aveva soltanto la camicia bianca della divisa scolastica anche questo prova che i testimoni si erano sbagliati tornando alla ricostruzione dei fatti presentata dall'accusa dopo che James era riuscito a convincere Ricky a seguirlo nel bosco lì vicino il 13enne lo aveva strangolato a morte con la giacca del bambino poi aveva spogliato Ricky di tutti i suoi vestiti e infine aveva posizionato il suo corpo per riprodurre la forma di una stella probabilmente per ottenere una sorta di malata gratificazione intima dopodiché aveva lasciato lì il cadavere e se n'era andato si era sbarazzato dei vestiti della sua giovane vittima ed era tornato alla sua vita di tutti i giorni riuscendo a occultare questo oscuro segreto per anni e anni alla fine del processo la giuria si ritira per deliberare e il 21 aprile del 2022 torna con il verdetto ritiene James Watson che ormai ha 41 anni colpevole dell'omicidio di Ricky Neve l'imputato viene condannato all'ergastolo con un minimo di 15 anni di detenzione prima di poter considerare il rilascio anticipato su libertà condizionale la pena minima in realtà risulta così inconsistente a causa dell'età che James aveva all'epoca in cui ha commesso questo orribile crimine ciò nonostante James prova ad appellarsi contro questa condanna ma non ha successo quindi continua a essere rinchiuso in prigione in seguito al verdetto di colpevolezza la madre di Ricky Ruth Neve rilascia una dichiarazione scritta in cui afferma James Watson non hai idea di quello che hai fatto sei puro male senza coscienza hai messo in moto una catena di eventi che ha rovinato la mia vita e quella dei miei figli Rebecca Maria Harvey la sorella maggiore di Ricky ha detto che perdere suo fratello è stato come perdere l'altra metà di sé afferma che ancora oggi quando si sveglia ogni mattina ha la sensazione che sia un incubo Ruth in occasione della sentenza di colpevolezza di James Watson ha rivisto le sue figlie in tribunale e ha ammesso che non le vedeva da oltre 26 anni del resto come è emerso Ruth non è un'assassina ma è stata di certo una pessima madre posso soltanto sperare che lei e soprattutto le sue figlie siano riuscite a rimettere in carreggiata le proprie vite la polizia di Cambridge sempre a seguito della sentenza si è scusata per i pregiudizi manifestati durante la prima indagine su Ruth Neve si è raggiunta alla conclusione che lei fosse l'assassina troppo in fretta nonostante la mancanza di prove la polizia si scusa anche per non aver riaperto prima il caso sulla morte di Ricky ritardando così l'ottenimento della giustizia per lui in effetti pensandoci mi suscita molto dispiacere che ci sono voluti quasi 28 anni per rendere giustizia a Ricky per questi quasi 28 anni il suo assassino ha vissuto da uomo libero godendosi la vita e credo sia davvero disgustoso tutto ciò possiamo dire che fortunatamente almeno alla fine la verità è venuta a galla io spero che Ricky possa riposare in pace anche se la sua vita non meritava affatto di finire così in modo estremamente prematuro e brutale l'esistenza di Ricky per quanto breve non è stata per niente facile la sua mamma lo trascurava tantissimo gli ha reso necessario rubare per poter mangiare e lui si è fatto carico di incredibili responsabilità per aiutare le sue sorelle sebbene una di loro fosse anche più grande di lui poi un giorno la vita di Ricky è stata ingiustamente interrotta questo caso ci sottolinea l'importanza dell'agire accurato e incondizionato della giustizia e di una maggiore promozione della sicurezza in ogni luogo mentre cerchiamo risposte o formuliamo riflessioni non possiamo che onorare la memoria di questa giovanissima vittima il cui futuro e la cui innocenza erano preziosi come quelli di qualsiasi altro bimbo questo ci porta alla fine di questo video e quindi anche alla fine di questo caso onestamente sono dispiaciuta per la pena che ha ricevuto il suo assassino però effettivamente ha compiuto questo crimine quando aveva solo 13 anni quindi era davvero molto 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 giovane fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso io lo trovo angosciante davvero davvero angosciante e spero anche che Ruth abbia imparato dei suoi errori e spero che possa anche aver magari ripreso dei contatti con le figlie e che possa insomma vivere la sua vecchiaia in pace mettiamola così e nel frattempo spero anche che le figlie di Ruth siano riuscite ad andare avanti con la loro vita e spero che stiano tutte bene io sono curiosa chiaramente di sapere quali sono le vostre opinioni non conoscevo questo caso e quando l'ho scoperto e ho iniziato un attimino a scavare mi sono insomma resa conto che la polizia in molte situazioni ha lavorato male tanto male è incredibile che ci siano voluti quasi 28 anni per risolvere questo caso il mio ultimo pensiero chiaramente va a ricchi spero che ora possa davvero riposare in pace e sono curiosa di sapere cosa ne pensate quali sono le vostre opinioni scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.